Chris De Angelis, direttore di Volta, 30 secondi per spiegarci la fiera. Volta ha quest'anno 80 gallerie che arrivano da tutto il mondo, dal Giappone, dagli Stati Uniti, dal Messico. Abbiamo tre gallerie italiane, Mauro Rocca, Federico Bianchi e Paolo Brigadianesi. Il criterio di selezione per la nostra fiera è abbastanza semplice. Noi esigiamo che le gallerie che vogliono partecipare alla fiera siano gallerie madre. Cosa vuol dire? Sono le gallerie che vanno a prendere l'artista all'inizio della carriera e non quando ha già raggiunto un certo livello di successo per poi sfruttare questo successo ottenuto con l'altra galleria. Grazie mille.